Quando succedono questi eventi c'è un intero paese che si riunisce, che si unisce di fronte a una tragedia di queste dimensioni. Rivaluta il ruolo delle forze armate, non c'è mai stato un buon rapporto con i militari, invece negli ultimi anni c'è, perché i militari italiani sono richiesti dappertutto per la professionalità che hanno. Quella strage fuorribile in Afghanistan, colpì tutti, giovani, donne, bambini, adulti, tutti quanti uniti intorno a un gruppo di militari che erano lì per mantenere la pace e furono trucidati. Teniamo presente che i militari italiani e qui a Sassari c'è la brigata, è quella che dà il maggior numero di uomini in queste missioni, sono dappertutto, il 40% in Asia, il 34% in Europa, il 20% in Africa, Afghanistan, Iraq, Somalia, Albania, Kosovo e Libano e quest'anno adesso a maggio ci saranno gli italiani della brigata Sassari militari che torneranno a Beirut dove la situazione si è rifatta molto delicata. Importante il loro ruolo, importante dappertutto, importante che la gente percepisca il senso di queste missioni, di pace ma non di guerra.